Buongiorno amici del Resto del Carlino.it, siamo qui per parlare del Bologna Calcio che si avvia alla sfida importantissima di domenica prossima al Dallara contro il Genoa, in campo alle ore 15. Nel ritiro di Coverciano si stanno scatenando i cronisti per cercare di capire come Papadopoli intende preparare la squadra. In questi casi si ricorre a tutti gli espedienti, compreso quello di salire su una collinetta vicino a Coverciano per riuscire a vedere all'interno del campo, visto che l'allenamento è blindato, non è possibile parlare con i giocatori, non è possibile assistere dunque ai preparativi in vista della partita col Genoa. Di certo c'è che Papadopolo ha provato molti schemi e si sta allontanando dal 3-5-2 che era la sua impostazione iniziale. Presumibilmente verrà a giocare contro il Genoa con un 4-5-1 con Divaio unica punta per vedere di portare il canoniere arrivato alla soglia dai 20 gol sempre più avanti e il Bologna possibilmente verso la salvezza. Con una squadra molto tonica, molto forte e solida come il Genoa è chiaro che questo è uno schema che dà più garanzie perché copre di più il centrocampo e permette anche quelle ripartenze che poi consentono a Divaio di sfruttare gli spazi che gli sono così consoni. Papadopolo si gioca personalmente una partita doppia riguarda la salvezza del Bologna e riguarda anche la propria riconferma alla guida della squadra rosso-blu. Soltanto con una salvezza chiara, pulita e limpida, Papadopolo può sperare di rimanere alla guida dei rosso-blu anche l'anno prossimo perché in caso contrario la società ha disegnato delle strategie. Per una Serie A che fosse risicata e dunque non convincente e ci sarebbe pronto eventualmente Zenga. Per un Bologna che dovesse ripartire dalla B si parla di Colomba. L'allenatore fatto in casa, in qualche modo l'uomo che non ha mai riuscito ad incrociare i suoi destini con quelli della squadra rosso-blu. Ma queste sono elucubrazioni che riguardano il futuro perché al momento il Bologna deve soprattutto concentrarsi sul Genoa e giocarsi questa decisiva partita al massimo dei giri.